Clamoroso, clamoroso ma manco troppo se vi posso dire la verità, clamoroso ma manco troppo Il Napoli è ancora in corsa per far parte della Superlega E oggettivamente ragazzi miei me l'aspettavo Nel senso pare che sia stata contattata anche la Roma ma non si è saputo nulla insieme al Napoli Però esce fuori il nome del Napoli in modo pesante Il Napoli è stato contattato, pare direttamente dal Corriere dello Sport Che il Napoli è stato contattato dalla JP Morgan che è quella che ci mette i soldi per entrare a far parte della Superlega Cosa che sembra che a De Laurentiis non dispiace molto Prima di iniziare vi dico che questa settimana usciranno una marea di video sulla Superlega Parleremo una marea di volte di questa storia Quindi iscrivetevi mi raccomando al canale e cliccate iscriviti proprio adesso Iscriviti e lascia tantissimi piaci per supportare questo progetto, questi video eccetera Quindi iscriviti e soprattutto entra su Youtube senza aspettare la mia feed Perché le feed non ti arriveranno Le feed non partiranno Quindi non ci credere Non credere che tu possa vedere i miei video tramite le feed Perché pubblicherò troppi video e le feed non mi partiranno Quindi mi raccomando ad ogni modo rimanete sintonizzati E cercate ovviamente di entrare su Youtube voi in primis E di guardare quello che sta succedendo Di cercare il mio canale eccetera Detto questo e constatato ciò Di che cosa sto parlando? Sto parlando del Napoli Io me l'aspettavo sinceramente Cioè veniamo a noi Le squadre devono essere 20 di cui 15 fisse Al momento sono 12 Ne mancano 3 Pare che il Bayern Monaco abbia detto no Il Borussia Dortmund abbia detto no Il Lipsia abbia detto no Il Porto abbia detto no Pare che anche la Roma avrebbe rifiutato Raga il Paris Saint Germain oggi poi dopo ne parliamo Non so se ne abbiamo già parlato Non vediamo quando faccio uscire il video Tutto il discorso di Perez Di Florentino Perez Pare che appunto Il Paris Saint Germain non è mai stato contattato Ma quella è un'altra storia Cioè lì poi Florentino va a dire Il Paris Saint Germain non è stato contattato Perché il presidente del Paris C'ha le cose da sparticola UEFA Quindi è normale che non è mai stato contattato È normale che non sia mai stato contattato Però ovviamente anche questo Sarebbe stato un altro no Quindi è normale che Stringi, 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 stringi Raga il Napoli secondo me Sarebbe stato contattato a breve Stamattino ho letto la notizia Non sono rimasto scosso per la notizia In sé sono rimasto scosso Perché veramente se anche il Napoli Decidesse di entrare La Serie A perderebbe sempre più Protagonisti qualora Qualora la UEFA decidesse di fare Pugno di ferro Poi non si è capito Perché ovviamente i tifosi di Milano e Inter Quando sentono dire da Florentino Perez Nessuno sarà eliminato dalla Serie A Dicono Eh non potete farlo Poi ovviamente C'è Frindice Possiamo E loro dicono Eh non potete farlo Ma giustamente Ognuno tira l'acqua al proprio mulino Non lo so Non so quale sarà poi effettivamente La realtà dei fatti Non so quello che succederà Detto questo Il Napoli viene inserito Appunto Probabilmente in questa lista Ora De Laurentiis Bisognerà capire se accetterà O meno La proposta da parte Della Della banca più importante Più ricca del mondo Ora Qual è il discorso? Già ho letto qualche commento Ma dove cazzo va? Il Napoli Il Napoli va a fare La Superlega Per prendere gli schiaffi State perdendo Una grande Eh Un grande Un piccolo grande dettaglio Un piccolo grande particolare E ve lo spiego molto volentieri Mi sa che non avete compreso Il fatto E io sono contro la Superlega Che la Superlega Ti dà 300 milioni di euro E se il Napoli Entrasse come club fondatore Perché tutti e 15 Sarebbero i club fissi Solo 5 posti roterebbero Significa che il Napoli Andrebbe a percepire Di media 250 300 milioni Tutti gli anni Vuol dire che De Laurentiis Farebbe di introiti Solo per la Superlega Quindi senza contare Lo stadio Quando si aprirà Si riaprirà Senza contare la serie A Senza contare la vendita Delle magliette Senza contare il merchandising Gadget eccetera De Laurentiis Farebbe di introiti Solo dalla Superlega In 4 anni Un miliardo di euro circa Ragazzi stiamo parlando Ovviamente Di una situazione In cui il Napoli Il primo anno Prende gli schiaffi A destra e manca Il secondo anno Prende gli schiaffi A destra e manca Ma se la UEFA Non dovesse mettere paletti E quindi ci dovesse essere Libertà di acquisto Da ogni dove Ragazzi miei Qua si parla ovviamente Di una situazione In cui giustamente Il Napoli Andrà a diventare Sempre più forte E non mi stupirei Qualora vedessi Un Napoli Versione Paris Saint Germain In 3 o 4 anni Ragazzi Un miliardo di euro Di introiti in 3 o 4 anni È veramente Tanto Cioè stiamo parlando Di cifre astronomiche Di cifre che non fa nessuno Quindi io non sono così D'accordo nel dire Dove va il Napoli Perché magari per due anni Prende gli schiaffi In Superlega Ma tanto Il Napoli Ben o male in Champions Non è che negli ultimi anni Abbia brillato Tant'è che nella loro storia Non sono mai arrivati Ai quarti di Champions Quindi questo Gli può far solo che bene Indecisissimo Dal fatto di sentir dire Che De Laurentiis Ci starebbe pensando Considerando che De Laurentiis C'ha una poltrona In Lega Calcio La Lega Calcio Ovviamente correlata Alla UEFA E probabilmente Se dovesse andare a fare La Superlega Cadrebbe la sua poltrona Gigantesca Perché De Laurentiis Comanda da una vita In Lega Calcio Quindi Bisognerà capire Se deciderà Di cercare di fare il passo avanti Prendere introiti Soldi eccetera Abbandonare la sua poltrona O continuare a comandare Perché Parliamoci chiaro Per quanto vuoi Possa essere un club fondatore Ragazzi Il Napoli Non era stato nemmeno Ma come la Roma Ovviamente Non era stato nemmeno Cagato in principio Questo che vuol dire Che il Napoli Nelle 15 Conterà come L'ultima ruota del carro Conterà come Il 2 de Coppe Quando a regnare A bastoni Quindi Si parla Di una situazione In cui ovviamente De Laurentiis Avrebbe poco potere decisionale Altrimenti Te fanno fuori Sostanzialmente Perché Ovviamente Se tu dovessi scegliere Tra Dar ragione A Barciano non Napoli Real Madrid non Napoli Juve non Napoli Ma anche a livello dei tifosi Ovviamente Il Napoli è sempre la seconda Quindi Ovviamente Entrarebbe a prendere Proprio esattamente Quello che prendono le altre Però avrebbe Molta meno voce in capitolo E bisognerà capire Se De Laurentiis Davanti a questa decisione Deciderà di continuare A comandare O a farsi comandare Ma prendendo Una marea di soldi Sostanzialmente La storia di Faccio la partita Sono partita IVA Guadagno Tot soldi Al mese Oppure ne guadagno il doppio Però sono sotto uno Che me gonfia Ecco Questo è il discorso Di base Che dovrà Ovviamente Esempio Che non c'entra nulla Partita IVA Con il Napoli Però Che dovrà fare Secondo me Aurelio De Laurentiis Detto questo Secondo me Secondo me Ragazzi sta succedendo Un macello Io fossi il Napoli Ripeto e ribadisco Rifiuterei Perché io Personalmente Non vedo Un futuro In questa competizione Innanzitutto Perché se tutte Dicono di no Se tutte le big dicono di no E restano compatte E restano unite Beh che se la fanno In 12 Può darsi Ma in 12 ragazzi Non è in 20 In 12 ragazzi Porta meno introiti Non ci sono due gironi Non c'è la possibilità Di farla più lunga Di fare un girone da 12 O due gironi da 6 E già questo Rende la coppa A mio modo di vedere Molto meno appetibile E poi io non vedo Un grande futuro Se vi posso dire la verità Se non Se non Mirato ad uccidere il calcio Che poi ripartirà dal nulla Ripeto come dico sempre Io non voglio fare Positivo o negativo Non voglio fare Angeli e diavoli La UEFA non è un angelo La UEFA è diavolo Quanto chi sta fondando La Superlega Nello stesso modo Semplicemente Una Anche per interessi personali Dava più spazio Alla meritocrazia L'altra no L'altra L'altra oggettivamente no L'altra sinceramente Non credo Che dia nessun tipo di spazio Alla meritocrazia Perché va a favorire Quelle squadre Basta Eh ma diamo 5 posti Grazie Ma come siete magnanimi Ma come siete gentili Quindi voi vi prendete sempre 250 milioni Tutti 350 milioni Tutti gli anni Tutti gli anni Nessun anno escluso Anche se arrivate decimi Però noi magari Una volta ogni 5-6 Partecipiamo E poi magari Abbiamo anche Il piacere di venderti Zanio La 60 milioni Meno male che Ci date 60 milioni Così voi fate un sacco di soldi E ci date a noi Grazie Ma come siete magnanimi Ma vaffanculo Alla Alla